ciao questo è il solito video che faccio sui sui film che riesco a guardare che che mi sono andato a recuperare questo film di sempre di stelle in cubri che si chiama lolita che che come suo film come data come data d'uscita risulta come risulta magari a giugno del 62 in america che sicuramente magari essendo magari è stato in america sulla data d'uscita e a giugno del 62 poi sicuramente magari o anche magari è arrivato magari qua in in italia magari può essere magari passato magari qualche tempo qualche mese però sulla data ufficiali in america ho visto che risultava a giugno del 62 in america che anche se due e anche se come si dice che come film anche se due due a confronto confronto male ad altri film due 153 minuti quelle due ore e 33 di film però visto che si dove si premare i soliti magari fatti si prenderà da kubrick e i suoi film e magari meritano sempre da da essere guardati anche magari da come si dice che da consigliare perché i suoi film magari anche si possono avere i suoi anni magari sono sempre fatti bene che non sono magari i soliti film magari fatti un po magari un po male che anche nella maniera come sono hanno registrato magari le scene la trama così ho visto che mi è che meritava che anche se questo è questa lolita qua magari come si dice e amarei ancora ma lei in un film e ma lei ancora ma lei in ma lei in bianco e nero ho visto che come film e due ore e mezza ma lei di film e ci poteva magari anche anche stare anche se ma lei è risulta come roma come genere risulta un po risulta come romatico drammatico che parla di proprio di questo professore di mezza età che si innamora proprio di una ragazzina di 12 anni e talmente si innamora di lei che talmente diventa come si dice talmente ossessionata da questa ragazzina decide di sposare la madre vedova pur di stare continuare a vedere questa ragazzina che essendo magari innamorato più che altro ma da questa ragazzina magari questa relazione magari con la mamma come si dice magari la solita magari la solita magari relazione che che è destinata magari a magari a tipo un po' a a che sicuramente a dare magari dei conflitti a destinata tipo da vedi specie dei generi tra loro fra loro due questo professore la madre di questa di questa magari ragazzina e niente che magari anche si due quelle due ore e mezza però ho visto che come film mi merita che si anche se è del come film e del 62 del 62 veloci po visto che si può recuperare su certe piattaforme piattaforme se uno magari ha qualche abbonamento che lo puoi se uno c'è l'abbonamento si recupera e magari anche gratis se no di andare spendere quei pochi euro per recuperatelo se no non so perché al massimo se uno ma è proprio appassionato magari proprio di film ho visto che c'è anche proprio il cofranetto proprio di dividi in blu ray proprio di tutti i film magari proprio di tutti i film che ha fatto marei kubrick che se uno magari si ricopre ma magari anche questo cofranetto di club che in blu ray o anche individui normale e marei come cosa questo cofranetto può essere marei anche bella come cosa se no lo recuperi marei su qualche piattaforma gratis e se no quando capita che lo passa quando capita che passano lo passano marei televisione marei anche gratis e marei troppo e anche guardare libro di aspetti marei che lo passano marei televisione di aspettare proprio il momento marei giusto che magari per guardatelo può capitare che lo passano marei tra un po di tempo e non subito però lo si può sempre marei recuperare come film anche se delle 62 come 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 film che questi film e di cubri che anche se passano marei gli anni e sempre sono sempre film sicuramente marei da consigliare che anche se possono passare marei anche degli anni restano sempre belli questi film e magari di Kubrick che come al solito quando faccio questi video sui film e magari e lascio sempre marei descrizione marei i video trailer il cast degli attori che hanno partecipato e anche marei e magari anche la trama e qualche marei se riesco a mettere anche dentro le certe recensioni della gente che ama e recensito questo questo film che ho visto che questi film di cubri che tirano mai sempre che sono sempre guardati che molta gente lo ha sempre mai quindi quindi a volte ha fatto i voti marei sulle recensioni sono sempre mai migliori questi qua su che ha fatto Kubrick e niente quello che marei potevo dire magari su questo film di lolita di Kubrick marei l'ho già detto e niente a massimo ci vediamo marei sicuramente marei più avanti con i miei soliti video marei che portano mai sul sul mio canale anche se magari in questo ultimo periodo ho portato magari solamente magari video sui film però tornerò magari sicuramente a fare i miei soliti video che porto magari sul mio canale e niente per adesso magari vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao